Da quanti anni sei qua? Dall'89, ho fatto Caserta, Verona, Varese, Milano E di dove sei? Del Senegal Che lavoro facevi prima? Io ho lavorato prima a Verona, mi ora facevo le scantole Poi all'anno lì sono andato a Varese, ho lavorato a Vibram per 10 anni 10? 10 anni Regolare? Regolare, sempre regolare Poi dopo di lì ho fatto altri lavori, altri lavori con tempo determinato, con le agenzie Ok, quindi sempre regolare Sempre regolare Ok Ora mi trovo così, senza lavoro Posso inserire con i miei figli? Perché non puoi star giù? Certo E c'è qualcuno che viene a darvi una mano? Siete riusciti a parlare con qualcuno? C'è qualcuno che si interessa di voi? No, qui vengono solo ad andarsi a mangiare, vestiti, tutte le cose Ad aiutare io a cercare lavoro No, no, qui non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non viene mai nessuno No Sì, no